raga non potevo non inter non fare più quella cosa perché se non trovo c'è poi io salvo la però se non lo trovo lo devo continuare subito almeno due rete su questo gioco di fila le faccio nel basso si ora vediamo queste sono belle cibo vediamole la mia ok quasi così guarda Mi scusi dottore Ah eccomi Ciao Ciao Se vedete Dei barri sui Guarda il minotauro Guarda il minotauro Buono Ci servirebbe il gorgone Per fare due o tre occhi di gorgone Faccio l'update Però vabbè Ok devo rifare così Prendiamo l'occhio di lynch qua Gorgone di cassa Ok 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 che si fa? io mi do combattere ma quando si combatte salve signore buongiorno io le faccio casele ma stia no 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 posso le schengen salendo le schengen salendo ok qua arrivano i pezzi grossi molto grossi no ma no ma no se per questo che oggi geneticamente allora no no signore no signore no no signore no signore per comodo per comodo per comodo ma che perché per comodo io te ne rompo molto bene ok ah mamma mia ma che bello ma salito ok l'ho detto ciao fieribento è stato bello adesso ti ammazzo ma non c'è di più almeno almeno è cambiato roberto ok ammazza mi è molto è molto è molto è molto dico è molto meglio no è l'ho detto l'ho detto sì sì vai vai tranquilli no no non c'è di passare le catene occhio abbiamo avanti occhio di fight che sono coronti 3 di arti c'è rinferà soltanto uno solo quindi uno due tre lo salvo a buon giorno ecco qua io sono veramente più ah la mia assistita ma questi sono minimamente due tagli no signore no no signore no non lupa la catena perchè per favore no per favore signora signora no ma un sole la queste qua poi ti faccio ma poi ti faccio ma perchè questi sono i miei di vita perchè sono non non signore no no con le arti anche di ai no 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 signore signore io non ho fatte nulla però ti vale e quindi lei merita di dire ok così fuori 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 ing ha fatto il fuori no è fatto ok no guarda un pochizzo rotello, rotello, analogico, triangolo ok, morto, morto ma signori, ma allora siete proprio un passaggio io ti ammazzo con le armi, tuo padrone, io ti ammazzo ok, cerchio, rangolo, hit si salve buongiorno, volevo dirvi della nuova io dentro tommolo, torcabile, ingio, giochi segpla, 미안 e int regardez, ma ora rinocerai la terza decisione e città i tri vai cox e cerchio 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 vai l'ho tomato no l'ho tomato l'ho tomato vai l'ho tomato la posso ritomare ok cerchio ok no pensavo che l'ho potuto ritomare ok a te ti giro tutto a te ti giro e cioè bam baffo 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 male 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 manca no questo qua questo fa rischio eh fa rischio no Guarda chi c'è Kratos, il fantasma di Sparta Il dio caduto Il mortale maledetto Catturare le mosche che ronzano attorno a Zeus Non vale il mio tempo, Hermes Parli da codardo, Kratos Non provi a prendermi perché sai che non ci riusciresti Kratos, come inganni il tempo oggi? Ucciso qualche familiare ultimamente? Ah, giusto Stai andando a uccidere tuo padre, Zeus Non succederà, impossibile Kratos si è imbarcato in una missione da stolti Di nuovo Mai imparerai Mai cambierai Kratos, lo stolto che uccide i suoi cari Kratos, lo stolto tra mortali e dei Per sempre sciagurato Per sempre condannato La vendetta lo consuma rapida e impetuosa Lo spartano si avvicina a una fine indecorosa Per sempre Grazie a tutti. 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 Il vaso di Pandora. Grazie a tutti. Tutto iniziò quando Zeus trionfò sui titani nella Grande Guerra. Grazie a tutti. Odio. Odio. Ma la fiamma è letale. La forza non ti manca, ma la forza non ti manca, ma sei lento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.